Non abbiamo ucciso il nostro popolo, nessun governo al mondo lo farebbe. Il presidente siriano Bashar al-Assad compare per la prima volta dopo nove mesi davanti alle telecamere dell'ABC News e definisce errori individuali dell'esercito le uccisioni dei manifestanti avvenute in Siria dall'inizio di marzo fino ad ora. In un'intervista esclusiva realizzata dalla giornalista statunitense Barbara Walters, Assad ha più volte ribadito che il governo non ha mai dato l'ordine di sparare e che i mass media hanno spesso riportato episodi in maniera distorta. Riguardo la possibilità dell'ingresso nel paese di osservatori internazionali, Assad, incalzato dalla Walters, si è detto più volte favorevole a controlli esterni concordati col governo siriano. Si sente un po' colpevole per quanto accaduto? Chiede la Walters al presidente siriano che Serafi corrisponde No, non puoi sentirti colpevole quando fai il tuo dovere e cerchi di difendere il tuo popolo. Assad parla anche della sua famiglia e del fatto che ha spiegato ai suoi tre figli piccoli la realtà dei fatti. Ma cosa intende per realtà? Il leader siriano non dà una descrizione precisa sui disordini né dell'intervento del governo per placare le rivolte. Si limita piuttosto a precisare che per la Siria non si è mai parlato di democrazia e che il suo è un governo basato sulla legittimazione della gente e rivolge gli stessi alla giornalista la domanda si può dunque definire dittatura tutto ciò? Cosa che faccio dovrebbe essere basato sulla wille delle persone perché bisogna fare una legittimazione popolare e questo è controllo di dittatura che faccio il profil.